Parco di San Martino Ora siamo arrivati qua in Valle del Chiese per raccontarvi una breve storia del Parco di San Martino ma soprattutto della chiesetta di San Martino e della vicenda che capitarono qua nel 1918 ma anche di un racconto di soldati qui presenti sempre in quegli anni, anzi qualche anno prima Siamo in Valle del Chiese, siamo nel comune di Cologna, quella del Castello Romano, racconteremo una nuova storia e qui siamo alla chiesa di San Martino questa chiesa risalente tra il 1200 e il 1200 come vedete è stata letteralmente distrutta dai colpi dei soldati italiani durante la Grande Guerra qui dopo l'attacco della Chieti, uno dei tre attacchi vigorosi della Chieti del Castello Romano, la chiesa fu distrutta e praticamente rimasero su questi ruderi perché l'esercito italiano voleva andare a conquistare l'avamposto che era situato lì al Castello Romano degli Astriaci fecero questi attacchi dal Monte Melino e da Malga Serolo, dalla soppa, attaccarono qui anche con gas per poter conquistare gli avamposti del Castello Romano per potersi avvicinare alla zona Por e Nozzalo Cadria questo attacco, fatto anche col gas, portò l'ultimo fu riportato il 15 giugno del 1918 dalla Brigata Chieti e questo è quello che rimane di questo posto splendido però qui non era solo questo attacco, vi era anche una bellissima storia da raccontare non proprio in questa chiesetta ma in un casolare qua sotto che adesso vi vado a raccontare brevemente grazie